Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video, in questo momento la faccia che tira e non avete idea anche le labbra sono distrutte Anyway, whatever, forever! Oggi ci trucchiamo con le travel size, quindi della sezione Beauty to Go di Sephora Perché ho pensato? Allora, quella sezione lì è pensata appunto Beauty to Go come sezione dove trovare delle travel size sfruttabili per un viaggio Quindi dei prodotti pensati appositamente in formato ridotto per essere trasportati anche nel bagaglio a mano eccetera eccetera E fin qua tutto bene, tutto molto carino, tutto molto interessante, ma mi sono chiesta, queste travel size ci permetteranno veramente di fare un trucco completo decente? Adesso lo scopriremo insieme La prima travel size che vi faccio vedere, e penso sia la prima volta che la vedete in azione anche se ve ne ho già parlato tanto sul canale E la Sica Pair di Dr. Jart Plus, questa l'ho messa anche nelle scopertone skincare del periodo perché è una crema pazzesca Io la prelevo sempre per questioni igieniche, ne ho presa anche troppa con il cotton fioc E adesso vi faccio uno zoomino, vi faccio vedere che potere magico ha questa crema Eccoci con lo zoomino sulla mia faccia devastata Allora potete già intravedere la costellazione del buboname così ribattezzata nelle story di Instagram Eccola qui Quindi vedete che ho diversi rossori Appunto sul mio viso Ora vi faccio vedere questa crema che tra l'altro ha anche un SPF 30 Che cosa riesce a fare? Io la uso spesso e volentieri come base Per il trucco perché oltre ad avere l'SPF 30 È verdina, quindi è una base correttiva che permette appunto di fare già da primer Quindi vi saltate un po' lo step del primer Giovando però del colore di questa crema È sicuramente, visto che me l'avete anche chiesto, una crema non estiva diciamo Quindi non è leggera come crema, anzi è una crema corposa Però io non la trovo unta Boh, sarà che comunque io ho la pelle mista Ma direi praticamente tendenzialmente secca Però vi dico che A me piace un sacco Vedete come ho già attenuato tantissimo i rossori? Forse in fotocamera non so se si vede abbastanza Comunque l'ho presa troppissima Ed ecco qua, non so se riuscite a vederlo sul fazzoletto Che comunque ha rilasciato il color carne Perché appunto ha delle microsfere all'interno Che si adattano al colorito della vostra pelle Quindi diventano una sorta di BB cream Vado con il mio contorno occhi d'arfen come al solito Anche questo fa un pochettino di color correcting Perché vedete che è pescatino, giallino, cose così Ed ora con una delle travel size che mi piace di più in assoluto Vado a idratare, se così vogliamo dire, le labbra Questo è il balsamino di Sephora Che vi ho già appunto fatto vedere un sacco di volte nei miei video Ed è un balsamo idratante per le nostre labbrine Più che idratante è tipo Loro lo definiscono lisciante, giusto? Sì Balsamo labbra molto lisciante E anche qua non ho messo troppo Che schifo Ho utilizzato il gel igienizzante mani Che è questo dalla Mercy Andy E forse lo trovate anche nella sezione Beauty to Go Comunque vi lascio tutti i link come al solito nell'info box E questo qua, l'Hollipop è uno dei miei preferiti Ok, procediamo, procediamo E qui ho la mia scatola di Sephora Tadam Rosa fucsia Ora procediamo con il nostro trucco Il nostro trucco Dunque, allora Vi ho già fatto vedere tutto su Instagram Infatti se ancora non mi seguite su Instagram Vi invito a farlo C'è il nickname qua sopra E se ancora non siete iscritti al canale Vi va di entrare a far parte della Zilli Kika Makeup Community Il tasto per iscriversi è qua sotto È sempre completamente gratuito E se il video vi piace Mollateci e un like Ok Allora Qui ho una valangata di prodotti ragazzi C'è anche un primer Io ho messo la Sika Pair E onestamente Un primer con la Sika Pair Io ve lo sconsiglio Perché comunque è una crema Corposina Siliconcine Eccetera Che va già a riempire abbastanza Quindi Lo step one Che avevo preso Base lisciante Di Makeup Forever Io lo balzerei Anche perché Mi sa che poi andrebbe ad alterare Il color correcting di Sika Pair Quindi non lo so Questo lo proviamo nei prossimi video Quindi rimanete sintonizzate sul canale E il primo prodotto Che mi viene così alla mano È il fondotinta Ultra HD Di Makeup Forever Le travel size Di questo fondotinta Sono veramente Molto 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 poche Però è già bello vedere Una Diciamo Versione travel Anche se In vetro Aiuto Mi immagino I bagagli Buttati a destra Manca Forse sarebbe stato Un po' più saggio Farlo di plastica Però vabbè Fateci attenzione E questo è Nella tonalità Y235 Allora Io avevo sentito Di questo fondotinta qua Che risultava un po' Comedogeno Però non ne sono Iper sicura E non me lo ricordo Al 100% Sempre se non si riferivano Alla versione precedente Qui c'è scritto Che è dermatologicamente testato Di agitare Prima dell'uso Ma non è specificato Se si tratta di un prodotto Non comedogeno Oppure no Vabbè 15 ml di fondotinta Direi che è già abbastanza E poi come correttore Abbiamo il Boeing Questa mini size Travel size Come dir si voglia Ha una parte di correttore E una parte di illuminante Allora diciamo questa cosa Io ci ho provato Ad alzare la luminosità Del video Il problema è che Mi vedo troppo bianca In fotocamera E non capisco Se poi sono troppo Sparaflesciata Perché già per esempio Adesso riuscite a vedere Il colore del correttore Prima non lo vedevate neanche Quindi la cosa Non mi entusiasma Mi rendo conto Che i miei video Sono un po' scuretti Però cercherò In post produzione De nuovo Finché non mi decido A cambiare fotocamera Cercherò di mettere A posto tutto quanto Comunque Questo è il correttore Che da una parte Al concealer Da una parte All'illuminante In crema Però io Gli illuminanti in crema Non li amo particolarmente Vi dico la verità Quindi si lo proverò Però Allora Quindi direi Di cominciare con lui E il concealer Io lo vado ad applicare Con un pennello E questo è il 142 di Jessup Non ho messo Il primer occhi Ma Sappiate che potete Utilizzare Qualsiasi primer occhi Voi vogliate Vediamo se riusciamo A minimizzare Lo spazio In valigia Utilizzando solo Questo concealer Come primer occhi Anche Questo qui Dovrebbe essere Un correttore Anti cern Quindi anti pieghette Numero 01 Quindi vediamo un po' Illuminare Illumina un sacco Quello Niente che dire Il colore È sicuramente Troppo chiaro Per me Troppo Perché non mi va A correggere L'occhiaia Forse in video Non si vede Però l'occhiaia È grigia Vedete Ok Adesso si vede È grigio Non è Non è corretta È solo illuminata Non avevo mai provato Questo correttore Di Benefit E la consistenza Al tatto È estremamente Siliconica Proprio Quel liscio Amorbidino Tanto carino Però portato Dai siliconi Molto 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 Morbido Questa parte Dove l'ho steso Col dito È venuto sicuramente Meglio Rispetto a questa Dove l'ho steso Con il pennello Non ho intenzione Di andare a correggere I brufoli Perché voglio Proprio vedere Come si comporta Il fondotinta Anche se in tante Di voi mi hanno detto Che è molto leggero Me l'avete già detto Su Instagram Però voglio proprio Provare Quindi Shake well Before use E poi lo vado Ad applicare Con un pennello Perché Onestamente Non lo voglio Andare A bagnare La spugnetta Molto Molto liquido Come pennello Vado a usare Questo qua Di Essence Che è il Make up Buffer brush Molto fitto Molto denso Vediamo un attimino Come si comporta Sapevo che Questi fondi Di make up forever Ossidano un pochino Quindi comunque Il colore dovrebbe Andare bene per me E' un peccato Che non ci siano Tutte le colorazioni Beh ovviamente Secondo me Sarebbe risultato Molto dispendioso Per l'azienda Comunque produrre Tutte le colorazioni In formato da viaggio Allora Considerando Che ho la Sica per sotto E che quindi Mi ha fatto già Un pochino di color Correcting Sono alla quarta Pusciata Del campione Qua di fondotinta Devo dire Che comunque Ha una coprenza Medio bassa Sì In effetti È una coprenza Molto 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 leggera Era da una vita Che volevo provare L'HD di Make Up For Ever Poi praticamente Passato talmente Tanto tempo Che hanno fatto L'Ultra HD E l'altro Uscito di produzione Se non ricordo male Vero? Però comunque Devo dire che Alla fine Il colore ci sta E non è neanche così tanto Con una blender Però non troppo porosa Perché secondo me Si ciuccia tantissimo Prodotto Essendo molto liquidino Però Oh Così non è male Ragazze Non è male E con il Sica per sotto Comunque un po' di correzione Del buboname Siamo riusciti a farla Quindi Insomma Diciamo che non è poi Così malvagio Poi Per quanto riguarda La cipria Io avevo preso In quest'ordine qua Delle travel size Questa di Sephora Perché stava nella sezione Beauty to go Però in effetti Di travel ben poco Perché sono 8 grammi Di prodotto Qui per esempio Quella di Astra Che sono 7 grammi Quindi è una cipria Grossa Normale No? Ed è la Beauty Amplifier Smoothing And Brightening Powder Quindi In un recente ordine Di regali di Natale Sul sito di Sephora Ho trovato lei Ragazzi Quando l'ho visto Ho detto ok Allora È la mia cipria preferita Lo sapete Lo sapete benissimo Si tratta della Born This Way Ethereal Setting Powder E l'ho trovata In versione Travel Size Cioè Mamma mia Così Se vi interessa Provarla La potete provare Sempre link Nell'info box Ad un prezzo Decisamente ridotto All'interno Ci sono 1,5 grammi Di prodotto È poco Perché è poco Però Intanto Mi permette Di farvi Un'idea Del prodotto Infatti Quando l'ho vista Ho detto Oh mio dio Che figata Il pack Anche della Travel Size È bellissimo E dentro Non ha il Shifter Fatto a cuore Ma comunque Ce la facciamo Andare Ugualmente Quindi Sono contentissima Di aver trovato Questa Travel Size Veramente Perché È la mia cipria Preferita In assoluto Pennello Qua c'ho Patella Che usa i miei pennelli Ovviamente Me li rimette lì Sporchi E io Mi incavolo Porca miseria Ladra Proviamo a metterla Con questo Di NYX Che sarebbe Il numero 24 Ultimamente Sto Alla faccia Dall'anti Cern Porca miseria Qua c'ho tutte le pieghe Sulla palpebra Del fondo tinta Confermato Che l'effetto Pore refining È assolutamente Il suo Questo sfogo Di buboname Guardate È È stata Veramente Uno shock Trovarmelo Venerdì mattina Sulla faccia Ci sono rimasta Veramente Di cacca Letteralmente Ma È Sicuramente L'esito Di tutto Lo stress Che ho avuto La scorsa settimana Infatti Sta già Sparendo Quindi È stata Proprio Una cosa Momentanea Almeno Si spera Ragazzi Non parliamo Troppo forte Perché I brufoli Hanno le orecchie Se vi sentono Dire che Migliorate Loro Peggiorano Per farlo Opposta Comunque Si Al tatto È sicuramente Lei Quindi Niente 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 Da dire E ora Sempre Nella scatola Qua Delle meraviglie Ho Il cab Ragazze Quanto Abbiamo sentito Parlare Del cab Tantissimissimissimo E quindi Ho detto Senti Proviamolo Nella versione Mini Perché Questo è Proprio Un cab Mini 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 Cioè Guardate Che piccolo Ovviamente Anche in questo Caso Colorazioni Pochissime Mi sembra Che l'unica Forza Che c'era Che la numero Tre Potrebbe Andar bene Per me Poi Sefora È stata Così Gentile Da darmi Un campioncino Che non Userò Mai Della Goof Proof La matita Cioè Praticamente Questo è Il campioncino Questo è Il campioncino Non Estraibile Ovviamente Quindi Questo è Quello Che Puoi Usare Della Goof Proof Cioè Non Mi Ci faccio Neanche Mezzo Sopracciglio Io Con Questa Robina Qua Grazie Per il Pensiero Però È un Po Poco Ok Proviamo Sto Benedetto Cabrao Con il Suo Pennellino Aspettate Com'è Che si Fa Così Poi Si Mette Qui Ok Perfetto E Adesso Proviamolo Va Secondo Me È Chiaro Perché Lo Vedo Proprio Biondo In Cialda Qua Nel Cake Sicuramente Non È Il Mio Mars Di Nabla Però Diciamo Che male Non È Sì Allora Confermo Che per Me È Chiaro Il Colore Però Devo Dire Che È Adattabile Nel Senso Io Sono Un Biondo Cener Biondo Scuro Castano Chiaro Insomma Come Dire Voglia Nei Parrucchieri Comunque Se Lo Stratificate Un Po E Se Poi Magari Sopra Ci Andate Con Numero 3 Perché Comunque È Un Neshy Blonde Un Po Così No Le Super Bold Eyebrows Sono Fatte Ho Fatto Leggerissimamente Fatica Col Pennellino Piccolo Ma Semplicemente Perché Non Sono Abituata Però Vi Confermo Che Può Andare Bene Un Poi Eshy Ma Può Andare Bene Anche Alle Castane Chiare Barra Biondo Scuro Barra Quello Che Vogliono I Parrucchieri Ora Aspettate Che Passo Un Attimo Col Pennellino Qua Sotto Non Ho Preso Niente Per Fissare Le Sopracciglia Perché Non C'era Nulla Nella Versione Travel Quindi Uso Il Mio Gel Qua Di Debbie Che Mi Avete Detto Era Una Edizione Limitata Momento C'è Questo Che Travel Friendly Assolutamente Quello Di Neve Quindi Adesso Vado Usarlo Il Roma Brown Che In È Più Scuro E Non Capisco Perché Mi Si Appannano Gli Occhi Con La Luce Ok Infoltendole Anche Un Pochino Insomma Mi Ha Un Colore Che Va Meglio Per Il Sopracciglio Comunque Assolutamente Travel Friendly Oltre Ad Essere Un Prodotto Valido Ora Possiamo Passare Al Trucco Degli Occhi Ragazze Ditemi Quello Che Volete Sono Travel Friendly Sono Le Vado Con Iconic Blend Tra L'altro Non Vi Ho Ancora Fatto Vedere Le Altre Due Ma Presto Le Vedrete Sul Canale Assolutamente Si Questa Secondo Me È Perfetta Per Viaggiare Cioè Proprio Alle Dimensioni Perfette Per Essere Portate In Viaggio Ovviamente Non In Che Il Periodo Natalizio È Veramente Pessimo Per Quanto Riguarda Corrieri E Cose Varie Vi Consiglio Di Acquistare Le Iconic Nel Caso In Cui Vogliate Fare Dei Regali Di Natale Nel Caso In Cui Vogliate Comprarle Per Voi Entro Il 17 In Modo Tale Che Vi Arrivino Per Natale E Potete Metterle Sotto L'albero O Comunque Fare Entro Il 17 Almeno Siamo Sicuri Che Il Paco Vi Arrivi A Casa Per Tempo Normalmente Le Spedizioni Sono Molto Più Veloci È Solo Che Sotto Questo Periodo Di Natale È Veramente Sempre Un Casino Allora Vado Prendere Marrakesh Sfreddo Un po La Piega Mi piace Da Matti Questo Pennello Qua Di Iconica Trovo Che Sia Uno Dei Blender Brush Migliori Che ho trovato Se non Il Blender Brush Migliore Che ho trovato Nelle palette Ragazze Perché gli altri Sono sempre Troppo Rigidi Per I miei Gusti Almeno Questo È Bello Morbido Flaffoso Riesce A sfumare Davvero Benissimo Gli ombretti Quindi Top E ora Vado Così Sulla Palpebra Con Onululu È Un trucco Anche lui Se vogliamo Un po Da viaggio Quindi Travel Friendly Facile Da Fare Veloce Ho Giusto Messo Due colorini Nella piega Ridò Una sfumatina Generale E via Sotto Le ciglia Inferiori Prendo Un po Di Zanzibar Con La punta Del pennello E vado Proprio Sotto Le ciglia Anche in questo Caso I pennelli Di Cosmai Fai Sarebbero Stati Perfetti Però Ripeto Che ancora Non li ho Lavati Stasera Mi tocca Inutile Che Continuo A Procrastinare Questo Momento E Continuo A far Finta Di niente Perché Qua Tutti i pennelli Che ho Disposizione Quindi Il momento È arrivato Stasera È il caso Che io Mi metta Magari A lavare Due pennelli Che dite Ora Con il ditino Prendo Los Angeles Vado All'angolo Interno Non ci si Trucca Con le dita Nel 2018 Ma chi L'ha detta Questa cosa Qua E quindi Eccoci qua Sempre col Mignolino Prendo un po Di Los Angeles Lo spiaccico Sotto L'arcata Sobraccigliare Della serie Non c'è Tempo Non c'ho Voglia Di lavare 8000 pennelli Come eyeliner In realtà Qui non ho niente Non ho niente Perché ho pensato Mi metto a fare L'eyeliner Volendo sì E comunque Gli eyeliner Tipo questo qua L'extra precisione Di Deborah Oppure Quello di Puro Bio Oppure Quelli di Essence Sono comunque Veramente Formato Viaggio Assicurato Però mettiamo Che non abbiamo Voglia Di portarci Dietro L'eyeliner Ho provato A prendere Questo mascara Qua Volume On Mascara Di Sephora Vediamo un po Com'è anche lui Perché era Nella sezione Beauty to go E uno di quei Mascara Con il tubetto Fatto tipo A tubetto A dentifricio E più Un zeppo Di setole Anche se Sono un pochino Rigide Separano Molto bene Le ciglia Però Cos'è sto Stoccoso Enorme Che mi ritrovo Sulla palpebra E' un grumo E' un grumo Gigante Eccolo lì Che mi ha Sporcato il trucco Grazie Grazie No ma Ripeto Grazie Vabbè E vabbè Cerchiamo di vedere Il lato positivo Ovvero che Sicuramente Fa delle ciglia Super bold Trattasi Tra l'altro Di uno di quei Mascara Che si asciugano In men Che non si rica Quindi se vi piacciono In mascara Un po' più secchini Potrebbe fare Al caso vostro Quindi il trucco occhi Per quanto mi riguarda E' completato Per quanto riguarda Invece il viso Ho preso La versione travel Del duo famosissimo Di Nars Che sarebbe quello Con il blush Orgasm E la terra Laguna Che voglio dire Anche nella versione grande Non è che sia Particolarmente ingombrante Però voglio proprio Provare Un po' questo Allora Laguna Mi sembra chiarissimo Orgasm E' molto molto carino Quindi prendiamo Laguna Con il pennello Questo qua Di NYX Che ho usato Appunto Per Settare Il viso Vado a farmi Un po' di contour Nel frattempo Il fondotinto È tutto Nelle pieghe Appunto per il contour Non è male Non è male Poi con il 127 di Jessup Metto un po' di Orgasm Mi sembra anche Un bel po' Un bel potanto Un bel potanto pigmentato Proprio perché Con il piccolo Con il piccolo opal E l'illuminante Quello là E l'illuminante liquido Però dovrei andare A catapultarmi Nella mia collection Per cercarlo Perché l'ho preso Se non mi sbaglio L'anno scorso Comunque sì che si asciuga In fretta Però le ciglia Le lascia abbastanza morbide Abbastanza flessibile Quindi ci piace Questa cosa qua Per quanto riguarda Le labbra C'è questo trio Di Marc Jacobs Che praticamente Vi costa come un rossetto Di Marc Jacobs Quindi magari Sarebbe carino Da regalare O comunque Da provare Prima di magari Prendere la full size La tonalità Sarebbe Si chiama Nude Lip Set E all'interno Contiene appunto La matita Il rossetto Il lucida labbra Quindi Tamponiamo Il polvuro cacao Ecco la mini matitina Questa è Nella tonalità Cream and sugar E lei è Estraibile Ovviamente Onestamente Non ricordo Se c'erano Anche altre tonalità Di questo kit Magari con rosso O cose così Vabbè Vi lascio il link Potete verificare Voi stesse Molto bella Questa matita Scorre benissimo Scorre benissimo Il colore Non fa grinse Scorre benissimo Non mi fa grinse Sul bordo Mi piace Mi piace molto Anche il colore Molto molto delicato Ci piace Approvata E poi c'è il rossettino Di quei nude Che sbatte È veramente molto bello Se vi trovate Di fronte A questo dilemma Ovvero Oddio Ho le labbra Troppo chiare E il make up Troppo chiaro Molto semplice Basta che andate Un po' a scurire La piega dell'occhio Per esempio Io prendo un pochino Di Zanzibar Sempre dalla Iconic blend E vado un po' a scurire La piega In questo modo Date Maggiore risalto Allo sguardo E il tutto è più Calibrato Il tutto è più Equilibrato Giusto per farvi capire Così O così Forse è meglio così No? Poi vabbè Il trucco è sempre Dettato dal gusto Personale Questo ce lo dobbiamo Sempre ricordare E ficcare bene bene Nel cervello Perché È proprio Proprio così Mi piace da matti Questo rossetto Veramente 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 Un sacco E ora proviamo Il lucidalabbra Delle Barbie Ragazzi Guardate che bello Anche lui dovrebbe essere Nella tonità Green man sugar Ovviamente Odore mentolato Menta piperita Sarà sicuramente Rimpolpante Sicuro Il colore È uno champagne Con qualche glitterino Che però tende Un po' a smontarmi Il rossetto sotto Molto 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 bello Mi piace veramente un sacco Questa tonalità In particolare Pescata Adesso comincia a fare Quell'effetto fresco Barra pizzicorio Quindi tra poco Mi troverò due labbra Grosse così All'alleciso Ovviamente non è vero A me questi gloss Rimpolpanti Hanno sempre fatto Veramente molto poco Però ci piace Ci piace Ora Ultimo tocco Questo è un setting spray Ed è il peach mist Mattifying setting spray Con infuso di pesca E di fico dolce Dovrebbe essere Ed è il peach mist Appunto di Too Faced Volevo troppo provarlo Sa di pesca E di fico Veramente tanto Buonissimo Profumo buonissimo Mi piacerebbe impazzire E basta Quindi abbiamo terminato Questa prova Dei beauty to go Allora Considerazioni di fine video Dunque Sicuramente Mi piacerebbe vedere Magari un po' più Colori Di tutti i prodotti Della sezione beauty to go Perché ovviamente Un cabrao così Va bene Magari per me Lo posso adattare Ma per una Con i capelli neri Anche no Quindi mi piacerebbe Vedere un po' più di colori Il fondotinta Non è male Mi riservo veramente Di provarlo più spesso Perché non è affatto male La cipria Ormai lo sapete Nonostante Qui Si è andato un po' Nelle rughe della fronte Rughe di espressione Perché faccio sempre così Quindi Insomma Devo vedere Magari applicarlo anche Con una spugnetta Lo stesso per la cipria Perché la cipria È lei Ve lo posso confermare Però magari applicata Con un pennello In effetti Non l'ho mai applicata Neanche la full size Con questo pennello qua Ma con un pennello Un po' più corposo Di solito Magari va anche meglio Non mi ha fatto Vi dico proprio Onestamente Impazzire questo Di benefit Perché il Concealer È molto Illuminante E poco Correttivo Quindi questo Non mi ha fatto Impazzire Mentre appunto Il cabrao Sembra essere Molto molto interessante Insomma adesso Vedrò come mi ci trovo Magari lo userò Un po' più spesso Questo Questo qui È molto carino Devo prendere Devo prendere di mestichezza Perché lo scovolino È grosso Però mi piace Moltissimo L'effetto Che dà sulle ciglia Poi cosa abbiamo provato Questo Questo mi ha stupita Perché mi avevate detto Che scriveva molto poco In realtà Forse io ho le luci Sparate addosso Non l'ho riuscita a vedere Però In realtà Io vedo sia il blush Che la terra Quindi Secondo me È molto carino Come duo Così da portarsi in giro Ovviamente non faccio parola Sulla blend Sull'iconic blend Perché sapete Che l'amo tantissimo Mi piace tantissimo Vi lascio sempre il link Nell'info box Nel caso in cui Vogliate acquistarla Per voi O per qualche regalino Di Natale Mi ha stupita tantissimo Il mini kit Di Marc Jacobs Cioè Mi ha stupita Fermi tutti Perché Il colore è bellissimo Il rossetto È veramente bello Perché è uno di quegli opachi Morbidi Ma pigmentati E la matita Mi ha fatto impazzire Mi ha fatto letteralmente Impazzire la matita Quindi magari ci potrei fare Un pensuerino Peccato non aver provato Lo step 1 Di Make Up For Ever Che sicuramente Proveremo nei prossimi video Insieme E vedremo com'è Come primer Make Up For Ever Fa tutta una serie di primer A seconda delle proprie esigenze E questo mi interessava parecchio Sulla Sica Per Non vi dico nulla Perché sapete già Che l'ho messa Nelle scopertone Del periodo Questo è Uno sfizio Nel senso che Profuma da matti Di pesca di fico Quindi È carino Spararsi in faccia Come setting Qualcosa che profuma Di pesca di fico Tra l'altro Dentro ha anche 30 ml Quindi veramente Sfruttabilissimo Sfruttabilissimo Volendo Potete trovare Anche la mini size Dell'All Nighter Che è uno dei Anzi È il mio setting spray Preferito in assoluto Per quanto riguarda Il discorso Long lasting Mattificante Eccetera eccetera Che altro abbiamo usato Ragazze Basta Credo di avervi fatto Il recap di tutto Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Cosa vi sono sembrati Questi prodottini Giù nei commenti Vi aspetto Magari consigliatemi Degli altri Perché sono veramente Molto curiosa A questo punto Vi ringrazio Per aver seguito il video Se vi è piaciuto Thumbs up E noi ci vediamo Nel prossimo Un bacione Ciao Ciao